Tutti quanti sognano il do it yourself, il fai da te, ma poi non ho gli attrezzi giusti, ma poi chissà se so usare il trapano, chissà se ci arriva il filo, non voglio ingarvugliarmi con tutti i fili e poi chissà quanto sporco. Io so che volete essere creative ma siete bloccate, ma io ho la soluzione. Ciao a tutti e benvenuti su Una Casa alla Volta, io sono Francesca e oggi realizzeremo una decorazione a parete perfetta sia per lo studio, sia per la cucina, sia per la camera dei ragazzi, ma sempre con il mio stile in modo facile, pratico e veloce. Infatti insieme a Bosch realizzeremo una pegboard. Realizzare questa pegboard è stato davvero semplicissimo grazie a Bosch. Bosch ha infatti ideato una linea di elettro utensili a batteria per semplificarci la vita, per non intrecciarci nei vari cavi e fili e per velocizzare tantissime lavorazioni. Sto parlando del sistema Power for All Alliance, una piattaforma che unisce più di 40 utensili Bosch per la casa e il fai da te, alimentati dalla stessa batteria al litio al 18V che funziona anche sugli utensili di altri cinque prende diversi. In questo modo realizzare tutti i nostri progetti è davvero semplice, pratico e veloce. Grazie alla batteria Bosch da 18V infatti ci dà la possibilità di risparmiare tanto denaro, tanti soldi, perché si può acquistare l'elettro utensile senza la batteria e riutilizzare la stessa batteria Bosch da 18V su tanti elettro utensili differenti, sia di Bosch che di altri cinque brand differenti. In più Bosch ha pensato all'ambiente, infatti grazie al fatto di riutilizzare questa batteria di Bosch da 18V possiamo spostarla da un all'altro e quindi non avere 10 batteria per 10 elettro utensili diversi che sono molto più difficili da smaltire ed inquinano tantissimo ed in più c'è un risparmio di spazio perché possiamo organizzare la nostra piccola zona dedicata al fai da te in modo più pratico, più compatto perché anche le batterie hanno il loro ingombro. Per realizzare la pegboard vi servirà una tavola in legno della misura 60x90, matita, gomma, riga e righello, bastoncini di legno di diametro 2 cm, mensole, bomboletta spray bianca. Gli elettro utensili Bosch della linea Power for All Alliance che ho utilizzato sono il trapano avvitatore, l'aspiratore universale, il seghetto alternativo e la levigatrice palmare. Quando appenderete la vostra pegboard al muro vi consiglio di utilizzare truvo per rilevare se ci sono dei fili nella parete e zamo per prendere invece le misure. La comodità di passare da uno strumento all'altro con una sola batteria anche su attrezzature differenti è la svolta. Ad esempio quando ho finito di utilizzare la levigatrice per preparare il legno della pegboard ho semplicemente spostato la batteria e pulito la macchina. Con facilità sono passata al seghetto alternativo per tagliare i bastoncini in legno. Dati gli ultimi ritocchi siamo pronti per la finalizzazione della pegboard. Incredibile vero? Lasciatevi guidare da Bosch e per i vostri prossimi utensili ricordatevi di scegliere la linea Power for All Alliance a litio 18V di Bosch, un'unica batteria a litio utilizzabile al 100% su oltre 40 utensili Bosch per la casa, il fai-da-tè, il giardinaggio e su tantissimi altri prodotti di 5 brand diversi. Bene, spero che questo video vi sia piaciuto e vi sia stato utile. Io non vedo l'ora di vedere le vostre pegboard. Ora datevi il permesso di essere creativi e di semplificare il vostro fai-da-tè grazie alla piattaforma Bosch Power for All Alliance. Noi come sempre ci vediamo sulle stories e al prossimo video. Ciao! Ciao! Ciao!